Martedì 1 settembre, Sant'Egidio abate e il 244esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 121 alla fine. Il sol sorge alle 6 e 32, tramonta le 19 e 52. La luna si eleva alle 21 e 30, tramonta le 9 e 45. L'imperatore Carlo Magno stipola un patto con i greci riguardanti i possessi dei beni pertinenti e venetici nella terraferma imperiale. Alla ventiduesima festa dell'agricoltura, venerdì 4 settembre, pizza in piazza a chilometri zero a Mirano, con i prodotti delle aziende agricole della zona. Più di 500 tranci di pizza offerti dalle pizzerie partecipanti. Ritira il coupon omaggio dal 24 agosto nei negozi di Mirano. Le previsioni per domani. Tempo da variabile a instabile, con addensamenti più frequenti ed estesi su zone montane e pedemontane e schiarite più presenti in pianura. Crescente probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, fino a alta sulle Dolomiti, medio-alta su prealpi e pedemontane, medio-bassa sulla pianura centro-settentrionale, bassa sulla pianura meridionale. Temperature in prevalenza in calo in entrambi i valori.